Ciao, sono Martina, ho 20 anni e sono un OS. Ciao, sono Cristina e ho 54 anni e da 7 sono volontaria nella pubblica assistenza a Croce Gialla di La Spezia. Sono volontaria nella pubblica assistenza a Croce Gialla di La Spezia da 5 anni, in cui ho svolto soccorsi e dialisi e in questo momento consegna spese e farmaci. Sono una libera professionista, in associazione mi occupo di soccorsi e in questo momento anche della consegna di genere alimentari e farmaci. Ho scelto di iniziare a fare il volontario perché nel mondo tante persone vivono situazioni di disagio e magari sono da sole, avere qualcuno vicino è importante. Credo nel cambiamento ed è quello che provo a fare, motivo per cui ho scelto anche di svolgere l'anno di servizio civile. Lo faccio perché? Perché è giusto, perché è una bella cosa che mi fa stare bene. Ho un motto che ho insegnato anche alle mie figlie, volontarie qui con me. Pensare che quando siamo su un soccorso le persone potrebbero essere uno dei nostri, un parente, un amico. Soprattutto in questo momento in cui la paura è tanta, noi cerchiamo di trasformarla in forza per reagire, rimanere uniti e continuare a portare sorrisi. Quando ti stringono la mano e ti fanno un sorriso non apprezzo per me. Ora più che mai questo motto mi spinge a voler continuare. Io resto a casa, quando esco è per aiutare. Io resto a casa, quando esco è per aiutare.